E questo ha fatto un gabinetto, questo ha fatto un gabinetto e ha detto poop, gli dobbiamo votare poop allora perché lui ha detto poop Ciao a tutti ragazzi sono Kendall e benvenuti in questo nuovissimo video delle Build Battle Questa è la serie Build Battle più seguita in tutta Italia quindi lascia un bel mi piace Sono proprio curioso di vedere cosa dobbiamo costruire allora un robot poi un pirata anzi i pirati ecco una bambola una stampa un bastone La stampa sarebbe tipo un francobollo ecco e tutti stanno votando un robot ok il robot si può ancora fare Secondo me riusciamo a fare qualcosina di abbastanza carino quindi io direi di iniziare a prendere materiali grigi Perché il robot di che colore lo vuoi fare lo devi fare per forza di grigio il robot e quindi 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 allora Io direi di fargli semplicemente la testa quindi facciamo corpo e testa non lo dobbiamo fare troppo grande perché altrimenti poi non ci basta il tempo Lo sappiamo bene tutti quanti e soprattutto voi avete tantissimo tempo per lasciare un mi piace a questo video Quindi io vi invito a farlo già da adesso spero l'abbiate già fatto perché sapete bene tutti quanti che è importantissimo Allora io direi che questo sarà più o meno il corpo del nostro piccolo robottino ecco questo è il busto diciamo Dobbiamo ovviamente fargli anche un collo perché non basta solo il busto e ho sprecato tempo a riempirlo tutto quanto perché potevo tranquillamente chiuderlo in questo modo Ora ovviamente gli dobbiamo fare un piccolo collo direi che così potrebbe andare più che bene si 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 Ora ho bisogno di un grigio un po' più chiaro quindi direi di prendere questo qui ok questo dovrebbe andare più che bene E gli dobbiamo iniziare a fare la testa oh no dobbiamo fare la testa al nostro robot speriamo di farla abbastanza bene perché non voglio troppe critiche Non voglio troppi super poop perché io so già la gente come ragiona qua nelle build battle tutti ti danno super poop se sbagli una minima cosa Sbaglio una cosina e già c'è i super poop però piace anche a voi anche se comunque nei commenti voi mi dite sempre che sono bravissimo a costruire siete molto cioè mi supportate molto Quindi sono contentissimo di questo allora gli dobbiamo fare una bocca i robot hanno la bocca tipo così e direi di farla con delle grate ecco ci prendiamo delle grate di ferro in questo modo Così viene più carina però che ne dite se dietro la bocca gli mettiamo qualcosa no 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 la lasciamo così Magari potrebbe far paura a qualcuno ma dai alla fin fine è pur sempre finto è una finzione giusto quindi allora tutto bianco perfetto e poi rosso ci facciamo anche questo E prendiamo i nostri banner per fargli gli occhi storti ovviamente gli occhi devono essere storti altrimenti che robo simpatico è non è un robo simpatico se non ha gli occhi storti E gli dobbiamo fare ora una piccola antennina l'antennina io direi di fargliela tipo così che ve ne pare no così non mi piace no così non mi piace sembra che c'è tipo il crestino nei capelli Beh allora intanto direi di fargli le orecchie quindi le orecchie le si fanno così perfetto uno no forse sono troppo lunghe quindi aspettate lo facciamo così Ok uno e di sì sì così va molto meglio ok abbiamo fatto le orecchie al nostro robot guardate quanto è carino è super carino e gli dobbiamo fare anche un nasino ovviamente Però non glielo possiamo fare perché questi blocchi sono asimmetrici quindi non lo possiamo fare al centro Non è male allora io non gli darei un super poop a un robot del genere vi devo dire la verità se vedessi un robot del genere non gli darei super poop Però gli darei o un poop o un ok e mi accontenterei sinceramente perché non ho la più pallida idea di come costruire un robot ma adesso sono veramente curioso di vedere cosa hanno costruito gli altri Vediamo un pochettino cosa hanno costruito gli altri allora lui ha costruito il classico robottino giocattolo gigante bellino vedete ragazzi anche se questo non è fatto bene gli diamo un ok Anche se non capisco per quale motivo c'ha qualcosa rosso forse era il pulsante di accensione ecco e lui invece oh è bello È stranamente molto bello stranamente bello gli do anche lui un bello ok è abbastanza particolare questo wow ecco come le dovevo fare le antenne no no allora non mi piace Prima di tutto perché non l'ha finito e non è bellissimo quindi gli do un poop però le antenne le ha fatte benissimo ecco il mio ecco il mio robottino Dai ragazzi gli dovete lasciare uh no no gli sta virando un leggendario perché gli hai dato super poop no nenel per quale motivo gli hai dato super poop E questo ha fatto un gabinetto questo ha fatto un gabinetto ha detto poop gli dobbiamo votare poop allora perché lui ha detto poop leggendario poop no io gli do poop Io gli do poop Wow questo è bellissimo questo è tipo un roboconiglio a questo gli do un good questo è proprio fatto bene mi piacciono tantissimo i colori all'interno bravo Sicuramente ragazzi io non vincerò questa eh questa build battle o almeno questa qua no però chissà la prossima è possibile questo non mi piace poop non mi piace proprio Dicevo questa non la vincerò sicuramente però speriamo di posizionarci in una buona posizione anche questo non mi piace quindi gli do poop mi dispiace Potete impegnarvi di più no non gli puoi dare good non mi dire che quello è good non è good dai Ok questo qua è carino ma non è fatto benissimo quindi anche a lui un ok ancora non abbiamo visto nulla di leggendario Nulla che ci fa impazzire al 100% e gli dobbiamo dare un leggendario anche questo è carino oppure lui si merita un ok niente di strabiliante Fino ad ora ragazzi quindi potremmo anche posizionarci in una buona posizione perché nessuno ha fatto Creazioni assurde questo che è un pupazzo di neve ma cosa hai fatto un pupazzo di neve No pure a lui ragazzi gli diamo poop gli diamo poop perché non c'entra niente con i robottini Oh mi sa che questo sarà il robot Stavo per dire potrebbe essere il robot leggendario invece No non mi piace proprio per niente gli diamo poop mi dispiace non era neanche finito Lui sarà lui il robot leggendario che schifo ma che brutto ma questo è il più brutto di tutti No super poop ma per quale motivo ha fatto gli occhi con quelli è spaventosissimo è storto è brutto Questo invece da dove si guarda da che lato si guarda E questo è il lato in cui si guarda Mi sa che si mi sa di si non capisco non capisco Oh wow ok questo è bello questo è bello non c'entra nulla con i robot ha fatto tipo delle maschere Però gli diamo un bello ok perché sono fatte veramente molto bene e io sono arrivato al quinto posto Wow nonostante ha vinto questo ma mi prendi in giro ma dai ma scherzi ma è bruttissimo Vediamo cosa costruire adesso un happy che non so sinceramente cosa sia però io farò l'happy meal se spunta quello I popcorn poi un ombrello una cometa o del pane io vorrei votare happy giusto per fare l'happy meal Magari alla gente può piacere no sono l'unico che l'ha votato tutti stanno votando la cometa Come cacchio si costruisce una cometa aiuto aiuto come si costruisce Beh una minima idea ce l'ho ovvero potremmo rendere tutto quanto qui il mondo di bedrock Quindi in questo modo per dare l'effetto che la bedrock sia stata distrutta dalla cometa Quindi tutto questo bedrock è iniziare a bucarellare qua al centro in questo modo più o meno a forma di cerchio Ecco non deve essere un cerchio regolare deve essere tutto molto irregolare molto a caso In questo modo credo vada più che bene in modo tale che dobbiamo far finta che la nostra cometa si sia schiantata sul terreno Ovviamente questo deve essere un pochettino rialzato altrimenti non va bene assolutamente Quindi dobbiamo rialzare un pochetto così Perfetto rifacciamo tutti quanti i contorni e poi mettiamo dei blocchi completamente a caso qua nel mondo Quindi la nostra cometa si è schiantata per terra ha fatto un bel patatrac un bel patapuff Ha distrutto tutto quanto e allora ci serviranno fiamme fuoco lava e ossidiana Perché la nostra cometa sarà fatta di ossidiana Ci abbiamo ben tre minuti quindi il tempo c'è e il fatto che mi sia già venuta l'idea molto velocemente è molto positivo ragazzi Quindi riusciamo a fare più o meno tutto quanto molto bene quindi richiudiamo il tutto e diamo un'occhiata da lontano E' ancora troppo quadrata quindi dobbiamo fare un pochettino i bordi li dobbiamo migliorare decisamente E il fatto che è difficile riuscire a fare ragazzi un cerchio irregolare su minecraft Perché i cerchi su minecraft si possono fare non sono così tanto difficili Però farli irregolare un pochettino un'altra cosa ecco un altro un altro paio di maniche Adesso visto che comunque l'idea della cometa che si è schiantata ce l'abbiamo Dobbiamo cercare un paio di particelle perché sono importanti a questo punto da trovare Ha creato un bel casino c'è tantissima lava qua tutto attorno che sta girando per il mondo Perché ovviamente ragazzi ha distrutto tutta la terra Ok molto bene non sta venendo molto male anzi direi che sono proprio abbastanza contento di come sta uscendo fuori Direi soltanto di allungarlo un pochetto Comunque sto rendendo più o meno l'idea di cosa sia successo in questo modo Perché la nostra meteora ovviamente ragazzi deve bruciare E' venuta comunque dallo spazio e non troppo quindi stiamo esagerando un po' con le fiamme Togliamone un pochettino ok secondo me non è male ragazzi ci può stare le particelle ci stanno di brutto Ci stanno tantissimo perché danno proprio l'idea che stia volando verso il cielo che si sia schiantata per terra Quindi ok a me piace sono contento del risultato finale Vediamo un pochettino gli altri che cavolo hanno costruito Beh potevi fare un lavoro un pochettino migliore Gli diamo pup ecco L'idea è carina il fatto che ha fatto lui la scia e tutto quanto Ma secondo me la mia è ancora migliore di questa quindi quello si merita Ecco la mia Eh la mia ragazzi dai Si è schiantato per terra è bellissimo Sembra quasi quasi la navicella di Goku Quello mi sta dando good Quell'altro good Questo mi sta dando pure un good Ok già siamo a tre good Tre good li ho visti Questo è molto bello Questo è molto bello Io non ci avevo pensato a fargli la scia di fuoco Ok quindi gli darei anche a lui un bel good Anche se Ah si stava Oh mio dio stava andando contro un dinosauro Avete visto stava esplodendo contro un dinosauro Molto molto carino Questa qua invece cos'è? Tipo una palla di cacca Questa è una palla di cacca di Don Pup Perché non è sto granché secondo me Questo è bello Wow questo l'ho fatto in 2D ragazzi Vedete c'è la meteora Che anche se dovrebbe essere una cometa non importa comunque Che si schianta verso la casina Quindi gli diamo un bel ok No ma questo è bellissimo Questo ragazzi è il più bello di tutti Questo gli dobbiamo dare un epic Questo si merita un epic per forza È bellissimo Era proprio bellissimo Io adoro quando fanno le fiamme in questo modo Anche questo è molto bello Però non è epico Secondo me questo è un good Quello di prima era epico Lui invece ha avuto proprio la mia stessa idea Ma l'ha proprio realizzata malissimo E uno in chat sta dicendo La cometa non è la stessa cosa di un meteorite Amico mio siamo su Minecraft Non puoi fare tutto perfetto Voglio dire l'importante è l'idea Questo è bello Mi piacciono tanto i colori Quindi gli do un ok solo per i colori che ha utilizzato Complimenti Non capisco Ti do un poop amico mio Solo perché non capisco che cosa hai costruito Ovviamente ha vinto lui Però sono arrivato al sesto posto Quindi non male Non male assolutamente Questo era veramente bellissimo Ho costruito una cometa bellissima E prenderò spunto Se uscirà di nuovo cometa Nella prossima build battle Tranquilli ragazzi Che la farò praticamente identica A quella che ha fatto lui Perché ha fatto un ottimo lavoro Ragazzi spero vi sia piaciuto anche questo video Delle build battle più brutte in Italia Perché io faccio schifo a costruire Però mi sono divertito veramente tantissimo Dal vostro imperatore Kendall è tutto Andatemi a seguire su Instagram Il link è qui sotto nella descrizione E noi ci vediamo domani Con un prossimo video Dio